. Temptation Island, Francesco ha fatto il provino per uomini e donne? Indizi. Uomini e donne, Francesco Chiofalo di Temptation Island ha fatto il provino? Avvistamenti. . Da quando Selvaggia Roma ha sbottato sui social, è iniziata a girare una strana ed interessante voce riguardo Francesco Chiofalo. L'ex di Temptation Island è infatti single e sembra abbia voglia di trovare una nuova compagna. . Dopo aver preso un due di picche dalla sua ex fidanzata, il romano ha voltato pagina, rivelando attraverso i social di voler andare avanti con la sua vita e di chiudere definitamente il capitolo Selvaggia. . Il pubblico di uomini e donne ha chiesto alla redazione di mettere Francesco sul trono, ma al momento non si ha alcuna novità. . In ogni caso, alcuni avvistamenti, sembrano parlare chiaro, soprattutto dopo il post pubblicato dalla Roma su Instagram Story. . Francesco Chiofalo, da Temptation Island a uomini e donne?. L'avvistamento ai provini. . Alcuni giorni fa, Selvaggia Roma ha dichiarato di aver scoperto qualcosa riguardo ad una persona che avrebbe potuto scendere le scale, di uomini e donne? Al più presto. . Di fronte alle parole della ragazza, tutti hanno ipotizzato che potesse riferirsi a Francesco Chiofalo, suo ex fidanzato. . Oggi, un nuovo indizio sembra quasi confermare la possibilità di vedere il personal trainer arrivare nello studio del trono classico. . Una fan del blog Newsued ha infatti raccontato un interessantissimo particolare. . . Sembrerebbe che qualcuno, forse proprio del pubblico, abbia visto Chiofalo recarsi negli studi e gli osperi provini di uomini e donne. . . In ogni caso, non c'è ancora nulla di certo. . . Temptat Nisland, Francesco Chiofalo sarà il nuovo tronista di Uomini e Donne?. . Dopo la scelta di Paolo Crivellin, Maria De Filippi ha ovviamente bisogno di trovare un nuovo tronista. . Francesco è super richiesto dai telespettatori, ma chissà cosa ne pensi la padrona di casa. Il giovane romano è molto simpatico e piace davvero a molti, ma sarebbe in grado di sedere sul trono e conoscere più ragazze contemporaneamente? Ma soprattutto, come reagirebbe Selvaggia Roma? A questo punto, non ci resta che attendere e vedere come andrà a finire. Ciao!